salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale in questo video andremo a prendere il trofeo chi dorme non piglia ladri borseggia una guardia sotto l'effetto di un dardo soporifero per il dardo dovremo andare avanti nella storia fino a quando non sbloccheremo i dardi e un nuovo slot mentre per il trofeo dovremo cercare una guardia che ha addosso una chiave il problema è che nel gioco le guardie con le chiavi sono veramente poche contate di numero quindi c'è anche il rischio di perdere questo trofeo è l'unico trofeo missabile quindi cercate di fare attenzione appena trovate una guardia con una chiave o la lasciate lì a meno che non serva per la storia così tornate in seguito quando avete sbloccato il dardo soporifero o prendete subito il trofeo è questo quanto ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto vi sia stato utile grazie a tutti per la visione vi auguro una buona giornata